Ad oggi non risultano presenti, per quanto riguarda l'ospedale, casi di scabbia. La malattia è endemica e quindi ci si può sempre aspettare qualche segnalazione di casi. Scabbia, un nome che incute timore. Tanto che quest'estate, quando si sono registrati alcuni casi di questa malattia all'ospedale di Bassano, si è parlato di emergenza. Bene, questa fase è stata superata anche se le medie dicono che il picco registrato in estate rientra nella norma. La malattia è soggetta a notifica, quindi riguardando i dati degli anni passati, qualche decina di casi, 20-30 casi in entrambi i distretti, questa è la media con cui si presenta. Un po' di allarme scatta quando c'è una concentrazione in breve periodo. Ci sono tanti falsi miti legati a questa malattia. Non è per esempio legata alle cattive condizioni igienico-sanitarie. È un acaro che si può prendere anche in un luogo pulitissimo. La cura è semplice. Le misure di precauzione che poi sono anche banali. Si tratta di spalmarsi con una crema o di fare una doccia con un farmaco particolare e il rischio è passato, insomma è azzerato. Il problema resta solo quello legato alla diagnosi precoce. Perché è una diagnosi di sospetto, quindi legata alla presenza di prurito. Ma il prurito non sempre c'è e soprattutto quando avviene in persone anziane, allettate, che magari abbiano avuto un ictus o difficoltà a comunicare, eccetera, ecco che allora è una diagnosi di presunzione. A volte è mascherata da lesioni da grattamento, quindi si confonde con altre patologie. Grazie. 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 Grazie.